Sono Alexia Bazzoli. Per gli outfit della mia sfilata ho deciso di utilizzare delle colorazioni che vanno dal viola al blu perché nel mio immaginario questi sono i colori del metaverso. Quando creo prendo spesso ispirazione dalla natura. Ho utilizzato delle gonne di Humana Vintage per due dei miei outfit e per utilizzare tutto il materiale ho creato dei pezzi medio piccoli che poi ho cucito assieme. Per il mio ultimo outfit ho utilizzato un completo vintage che ho trasformato completamente.